allora ci parli oggi di comarketing creare valore con la sinergia sì ho pensato che potesse essere un argomento di interesse visto anche il periodo dal quale usciamo quindi questo periodo di crisi questa necessità di ripartire con delle strategie low cost perché potrebbero effettivamente rappresentare la soluzione per tante attività che si sono trovate in difficoltà in questo periodo giustamente io ti lascerei la parola con due minuti di anticipo ok sì sì va benissimo minuti in più lo schermo ok aspetta che intanto non lo vediamo ancora ok è arrivato ok perfetto se già in modalità presentazione giusto sì ok perfetto se vuoi quindi posso tranquillamente iniziare assolutamente sì ok non non so quanti di chi sta ascoltando hanno sentito parlare di comarketing quindi di quanto effettivamente sia una strategia molto utile come dicevo prima per ripartire in un periodo come quello in cui stiamo vivendo quindi in cui ci stiamo ritrovando quindi questa necessità di dover ripartire dopo questa crisi quindi non soltanto economica ma anche sociale vediamo un attimo innanzitutto di che cosa parleremo nella prossima ora quindi innanzitutto parleremo di una definizione quindi daremo una definizione al comarketing perché non è semplice spesso definire quando si parla di comarketing quando si parla di co-branding c'è sempre un po di confusione in merito e anche perché la letteratura contribuisce a creare un po di confusione quindi cerchiamo di fare un po di chiarezza innanzitutto su cosa si intende per co-marketing e differenziare e differenziarlo dal co-branding quali sono i vantaggi ovviamente che possiamo ottenere da questa strategia quindi come effettivamente la sinergia quindi l'alleanza tra più brand ci può aiutare in questo momento di crisi per far ripartire la nostra attività ovviamente quali sono i principi che bisogna rispettare per fare un buon co marketing perché non basta allearsi con un brand ma bisogna soprattutto rispettare alcuni nodi chiave chiamiamoli così quindi che andremo a vedere successivamente parleremo del del co marketing sui social ma anche sui siti web quindi come possiamo fare co marketing nell'era dei social ma anche come possiamo farlo con creatività offline quindi andremo a vedere anche alcuni esempi di successo sia per quanto riguarda i social sia per quanto riguarda l'offline e il guerriglia marketing che non è altro che un'altra strategia low cost come il co marketing quindi vedremo come usarli diciamo entrambi in modo vantaggioso tutto ciò come vi dicevo sempre accompagnato da esempi pratici andiamo a vedere prima di tutto una definizione di co marketing ho scelto questa di che rubini che in realtà è uno dei maggiori esperti di letteratura in letteratura per quanto riguarda il co marketing abbiamo anche tanti altri come bertoli busacca che andremo a vedere successivamente ma che rubini ci fornisce effettivamente una definizione interessante del di co marketing ci dice che si tratta di un processo mediante il quale due operatori privati pubblici svolgono in partnership una serie di iniziative di marketing organizzate programmate controllate al fine di raggiungere obiettivi di marketing comuni autonomi ma tra loro compatibili attraverso la soddisfazione dei consumatori che cosa significa in poche parole il co marketing non è altro che un'alleanza che noi possiamo decidere di stringere con un brand o anche con più brand però ovviamente più partner vengono coinvolti più maggiore quindi sarà la difficoltà anche nella gestione diciamo di questi rapporti ma cosa cosa è in realtà importante comprendere in questa definizione che gli obiettivi e le azioni sono programmate sono ben definite non sono lasciate al caso ovviamente ciò che più mi preme diciamo dirvi è informarvi e sulle differenze che ci sono tra il co marketing e co branding perché spesso vi è un bel po di confusione a riguardo infatti noi siamo spesso abituati a vedere più che altro il co branding cioè la creazione per esempio di più di un prodotto nuovo quindi ex novo da parte di due brand famosi il co marketing in realtà si trova a un livello un po più superficiale inteso non in senso negativo quindi superficiale nel senso che come vedremo nelle successive slide si tratta proprio a un livello di intensità relazionale diverso rispetto al co branding quindi andiamo a vedere ora nel dettaglio effettivamente di che cosa stiamo parlando perché come vi dicevo prima la letteratura è molto caotica crea diverse interpretazioni diverse classificazioni del co branding in base a diverse a diversi elementi che fanno parte del marketing mix ovviamente non possiamo parlare di tutte queste classificazioni qui in meno di un'ora ma possiamo diciamo spremere questo limone cercare di cogliere il succo della situazione qual è la suddivisione più importante quella più semplice da comprendere tra il product based co branding e il communication based co branding si tratta infatti di due livelli completamente diversi perché stiamo parlando quindi di un livello in cui che si tratta quello del che stiamo parlando quello del product based co branding in cui i due brand le due aziende stringono una vera e propria alleanza quindi stiamo parlando di un qualcosa che effettivamente va a unire in maniera profonda i due brand quindi non si limita soltanto alla come alla alla pubblicità quindi all'aspetto comunicativo ma include anche rapporti un po più profondi perché stiamo parlando di due aziende che collaborano con lo scopo di o creare un nuovo prodotto quindi ovviamente immaginate il bacino di risorse e di impegno che necessita una un progetto simile quindi da entrambe i brand dentro trambi brand partner diciamo che il co branding di questa categoria si può manifestare in diversi modi abbiamo lingue co branding che diciamo il più classico è quello l'esempio mi era in mente quello tra coca cola e nutri sweet che ha contribuito a creare la diet coke quindi nutri sweet ha fornito il suo dolcificante naturale e dall'altro lato abbiamo coca cola che decide di colpire un altro target quindi un'altra audience lo fa tramite un brand già affermato in quell'audience che sono ovviamente persone che possono essere più attente alla linea persone più attente per esempio alla salute ai prodotti e ingredienti contenuti all'interno di un dremiato prodotto quindi questo in questo esempio ci aiuta effettivamente a capire già in primis prima ancora di andarli a vedere quali quali potrebbero essere i vantaggi di questa strategia perché io coca cola che voglio effettivamente colpire un altro bacino di consumatori decido di allearmi con un brand che quel bacino di consumatori ce l'ha già quindi ha già comunque una reputazione abbastanza forte all'interno di quel di quell'audience e io decido di allearmi con questo brand per facilitare il mio ingresso in questo nuovo mercato dall'altro lato come vi diceva abbiamo il communication based co branding che si ritrova un livello più superficiale quindi se quella categoria appena vista includeva come vi dicevo questa questa stretta alleanza più il piano comunicativo il communication based co branding si limita al solo piano comunicativo quindi io solo a livello pubblicitario decido di stringere un'alleanza con il con il brand partner ovviamente in questo caso abbiamo anche due diverse sfaccettature di questa di questa alleanza diciamo tra i due brand perché anche qui possiamo trovare un livello ancora più soft e un livello diciamo intermedio il livello proprio soft è quello della joint promotion quindi io faccio decido di stringere un'alleanza abbastanza limitata nel tempo quindi dai tre ai sei mesi con un altro brand e questo mi aiuta a diciamo aumentare le vendie a raggiungere un nuovo target una nuova audience come lo faccio qual è l'esempio diciamo principe di questa categoria di co marketing mcdonald con la disney cioè mcdonald cosa fa periodicamente ma non solo con la disney ma anche con altri brand nei suoi p.meel inserisce questi giocattoli appartenenti ai diversi film della disney ma anche ai film di tendenza o ai cartoni di tendenza in quel determinato periodo e questo è l'esempio più soft perché stiamo parlando di un'alleanza in cui effettivamente i brand non soltanto permangono all'interno dell'alleanza stessa per poco tempo ma le risorse impiegate sono anche abbastanza ridotte quindi non stiamo parlando appunto di un coinvolgimento totale delle due aziende dall'altro lato a questo livello intermedio tra la joint promotion e il product basic co branding di cui parlavo prima abbiamo il joint advertising che effettivamente è il co marketing per eccellenza nel senso è il la joint advertising è quella che si avvicina più al concetto di co marketing per come viene inteso dalla maggior parte delle persone quando si verifica quando due brand vengono semplicemente appaiate a livello pubblicitario l'esempio più classico che ci ha campagnato per tantissimi anni è la pubblicità tra oliveto e rocchetta quindi questo è un esempio effettivamente molto interessante perché perché si tratta di innanzitutto di due prodotti che apparentemente comunque appartengono diciamo sono concorrenti perché appartengono alla stessa categoria di prodotto quindi perché mai io dovrei fare una pubblicità con un'altra azienda che pubblicizza il mio stesso prodotto avrebbe più senso farlo con un prodotto complementare ma questa perché ho deciso di farvi questo esempio perché non soltanto perché questo esempio ci aiuta a capire che non soltanto con i brand che noi riteniamo complementari quindi con tutte quelle aziende che noi che producono magari prodotti complementari al nostro cioè il co branding è possibile farlo anche in caso in cui l'azienda partner commercializza il nostro stesso prodotto e loro l'hanno fatto in maniera egregia perché? Perché innanzitutto hanno deciso di riunirsi quindi riunire queste due acque a livello dello stesso claim quindi le acque della salute ma cosa hanno fatto in più? Hanno loro stessi rintracciato una differenza tra i loro due prodotti quindi la differenza tra i loro due prodotti non sta nel prodotto in sé che comunque si tratta sempre di acqua ma l'hanno fatto risiedere nei loro testimonial quindi un po' come un'antropografizzazione del brand cioè se voi vi ricordate i testimonial delle pubblicità erano la appena eletta Cristina Chiabotto per quanto riguarda Rocchetta e Del Piero per quanto riguarda Oliveto quindi questo è abbastanza semplice da comprendere quindi da un lato abbiamo l'acqua ideale per apparire bella e sempre al top Rocchetta dall'altro lato abbiamo Oliveto incarnato comunque da un calciatore che all'epoca era abbastanza stimato, abbastanza apprezzato nel panorama diciamo sportivo quindi nonostante, quindi questa è la dimostrazione di come nonostante appunto i due brand siano tra virgolette competitors hanno deciso di sfruttare in modo originale questa strategia di co-branding, di co-marketing scusate e andare effettivamente a sviscerare quindi andare ad aggrapparsi più che altro a un contenuto piuttosto che al prodotto in sé questo diciamo è una slide per farvi capire più o meno il rapporto tra queste diverse tipologie di co-marketing e di co-branding di cui vi ho parlato quindi abbiamo una bassa intensità della collaborazione come vi dicevo la joint promotion fino ad arrivare a un alto livello di collaborazione a un'intensità abbastanza forte di questa collaborazione con il product based co-branding vediamo alcuni esempi come vi dicevo la joint promotion, il classico esempio dell'Happy Meal e della Disney già in advertising abbiamo visto Uliped e Rocchetta con i relativi testimonial e poi il product based co-branding quindi nel quale appunto troviamo la creazione di un nuovo prodotto con due prodotti già noti cioè la Philadelphia e il cioccolato Milka lo scopo in questo caso era evidente cioè cercare di migliorare l'offerta proposta ai consumatori e migliorare la loro soddisfazione infatti ora andiamo a vedere innanzitutto quali sono i pilastri di questo co-branding e successivamente andiamo a vedere quali saranno i vantaggi ovviamente perché non basta semplicemente alleare due brand parliamoci chiaro è fondamentale rispettare alcuni principi non possiamo semplicemente svegliarci al mattino e dire ok magari questo brand potrebbe andare bene ora lo chiamo e vediamo cosa dice no, non funziona così dobbiamo semplicemente andare a sviscerare alcuni aspetti e scegliere con cautela il nostro partner perché come vedremo uno degli effetti che in realtà rappresenta un'arma a doppio taglio lo spillover effect può farci del danno come può farci anche diciamo avere degli effetti positivi quindi vediamo prima di tutto il primo principio sul quale noi dobbiamo basare la scelta del nostro partner innanzitutto dobbiamo essere sicuri che il nostro partner condivida i nostri valori che cosa significa? significa che se io sono un'azienda che ho sempre perseguito il valore di attenzione all'ambiente attenzione alla qualità delle mie materie prime non posso mai pensare di associare il mio brand con questi valori con un brand che è stato coinvolto in qualche scandalo da un punto di vista ambientale dell'impatto ambientale del loro processo industriale eccetera eccetera questi sono aspetti che spesso vengono sottovalutati perché tutto ciò avrà una pesante potrebbe avere una pesante ricaduta sulla nostra reputazione ma tralasciando questo che già è un danno abbastanza grave potrebbe andare all'elemento principale cioè apparire incoerenti agli occhi dei nostri consumatori cioè il nostro consumatore potrebbe avere dei dubbi circa la bontà effettivamente dei nostri valori la bontà anche della nostra comunicazione e tutto ciò ovviamente non deve essere assolutamente sottovalutato perché può rappresentare un danno enorme cioè un qualcosa che potrebbe portare anche alla distruzione della nostra attività quindi ovviamente non sottovalutiamo mai tutti questi aspetti perché la coerenza tra valori? perché andiamo a un livello un po' più neurale chiamiamolo così cosa significa? significa che quando io percepisco un brand fondamentalmente e quando io imparo a conoscere un brand nella mia mente si creano una serie di associazioni queste associazioni mentali ovviamente saranno collegate a determinate emozioni a determinate immagini mentali a determinati atteggiamenti e tutti diciamo tutti l'insieme di tutti questi fattori scateneranno il mio comportamento d'acquisto quindi potrebbero bloccarlo come potrebbero invece aumentarlo è fondamentale che vi sia coerenza tra i valori proprio per questo motivo perché è fondamentale che il nostro consumatore ci percepisca effettivamente percevista questa associazione come coerente come normale come naturale come logica in modo tale da poterla inglobare nelle sue associazioni di essere più credibili ecco agli occhi anche dei nostri consumatori il secondo principio gli obiettivi complementari che cosa significa obiettivi complementari ovviamente se il mio brand partner ha un tutt'altro obiettivo rispetto al mio già qua siamo diciamo un po' in confusione perché non riusciamo a percorrere la stessa strada soprattutto nei casi in cui gli obiettivi sono completamente contrapposti quindi bisogna capire effettivamente quali sono gli obiettivi impliciti ed espliciti di entrambi i brand cercare un attimo di trovare un punto d'incontro e cercare di capire effettivamente se essi sono in linea è possibile far nascere diciamo su questa serie di obiettivi condivisi una collaborazione ovviamente tenendo sempre conto dei valori di cui ho parlato prima brand reputation ovviamente tutti i fattori precedenti di cui vi parlavo avranno la ricaduta sulla brand reputation ma non solo nel senso che se un nostro partner per esempio in quel momento in cui noi abbiamo già avviato stiamo avviando la nostra la nostra collaborazione viene coinvolto in uno scandalo in uno scandalo di qualsiasi tipo questo proverà un grave danno alla sua reputazione ma in quel momento essendo noi stessi associati a quel brand potremmo avere dei danni a livello della nostra reputazione perché si potrebbe verificare un trasferimento di quella danno al nostro brand ecco perché è fondamentale informarsi 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 prima sul nostro brand partner cioè cercare di capire tutto il suo background capire effettivamente se in passato già ha avuto problemi di questo tipo quindi scandali eccetera eccetera cercare un attimo di comprenderlo appieno una metafora che è presente spesso in letteratura e che in realtà la trovo azzeccatissima è il brand partner paragonato un po' al partner nel senso della vita matrimoniale quindi quando noi andiamo a scegliere un partner per in vista appunto di un matrimonio di certo lo andremo a scegliere in modo leggero cioè cerchiamo di scoprire più che possiamo su quel partner che poi ci accompagnerà per un lungo periodo per tutto il resto della nostra vita cercheremo di capire effettivamente chi è che cosa ha fatto se in passato ha avuto diciamo dei problemi se potrebbe averne di nuovi un po' diciamo il meccanismo è lo stesso cioè cerchiamo di capire effettivamente con chi stiamo ci stiamo alleando con chi stiamo avendo a che fare ovviamente garantendo tutti questi elementi noi che cosa possiamo fare possiamo ottenere una corretta brand fit quindi ovviamente i due brand si adatteranno alla perfezione non soltanto proprio a un livello collaborativo operativo quindi sarà più facile anche lavorare con il brand partner ma anche agli occhi dei consumatori quindi questa associazione apparirà più naturale come vi dicevo prima in letteratura viene spesso paragonata dal matrimonio il co-branding e anche il co-marketing per questo ho deciso di mettervi questa citazione che effettivamente coglie tutti questi aspetti che coinvolgono l'associazione tra due brand quindi il co-branding e quindi il co-marketing come il matrimonio non è qualcosa in cui entrare in modo scorretto leggero sconsiderato è un'impresa commerciale che è grave che coinvolge i beni chiavi dei partner interessati la cura di questi beni nel corso del rapporto deve essere centrare elementi dei partner e il primo elemento sui capi d'accordo quindi questa diciamo questa citazione ci aiuta effettivamente a capire l'importanza di scegliere un buon partner quindi di non farlo con leggerezza soprattutto ma quali sono i vantaggi quindi se noi siamo stati bravi e abbiamo seguito dalla lettera tutti i principi di cui vi parlavo prima possiamo ottenere numerosi vantaggi ovviamente anche in base a ciò che vogliamo noi ottenere quindi qual è la nostra necessità in quel particolare momento innanzitutto innanzitutto possiamo parlare del vantaggio più ovvio cioè l'economia in termini di costi cioè tutti i costi verranno suddivisi quindi verranno divisi in due parti in tre parti in relazione appunto al numero dei partner io consiglio sempre di evitare di fare di stringere una partnership con più di un brand perché lì effettivamente la situazione diventa più complicata ma soprattutto più brand ci stanno coinvolti più la situazione sfugge al nostro controllo perché ovviamente maggiori saranno i rischi di incorrere in un danno di reputazione incorrere in qualsiasi altro danno in difficoltà per esempio in scontri diciamo tra valori tra obiettivi quindi non sottovalutiamo questi aspetti altro vantaggio è il vantaggio competitivo nel senso che le imprese diventano più forti diventano perché? perché si scambiano nella loro collaborazione riescono a scambiarsi competenze esperienze di vita tutti elementi che possono effettivamente sfruttare per ottenere un maggiore vantaggio competitivo oltre per esempio alla pubblicità in sé che permette poi diversi vantaggi che ora vedremo nel dettaglio come il colpire nuove audience entrate in nuovi mercati sono tutti fattori che ci permettono di ottenere un vantaggio competitivo perché costruzioni verranno fatte più velocemente rispetto ad agire in solitario infatti se la mia intenzione da brand è quella di entrare in un mercato estero ovviamente alleandosi alleandomi con un brand che è già famoso in quel mercato estero in cui io voglio entrare tutto ciò rende il processo sarà molto più veloce sarà molto più facile perché ovviamente quei consumatori mi vedranno associati a quel brand che già conoscono così bene e facilmente riuscirò a farmi accettare a farmi riconoscere stessa dinamica la troviamo anche nella necessità di brand di lusso di democratizzarsi cosa significa che io brand di lusso mi sono stancato di fare solo prodotti di picchia decido di fare una linea di prodotti di massa come faccio semplice quello che ha fatto Louis Vuitton se non sbaglio con H&M semplicemente ha creato una linea low cost con un marchio low cost quindi già famoso in quel bacino in quel bacino di audience semplicemente è riuscito a entrare senza alcuna fatica in un mercato che non gli apparteneva a crescere risorse immateriali come vi dicevo prima l'incontro tra due diverse aziende la collaborazione tra due diverse aziende include anche le risorse umane questo incontro tra le risorse umane può rappresentare effettivamente una crescita di tutte quelle risorse immateriali dell'azienda che siano le risorse umane stesse che siano tutte quelle competenze quelle conoscenze quelle esperienze di vita e lavorative che possono effettivamente fare la differenza per un'azienda quindi aumentarne come dicevamo prima il vantaggio competitivo aumentare la soddisfazione del cliente che cosa significa come vi dicevo prima nel caso del Philadelphia con Milka prodotto che io sinceramente non assaggerei mai potrebbe aver migliorato l'offerta per alcuni consumatori che desideravano assaggiare un fila cioccolato quindi questo per esempio è un modo per aumentare la soddisfazione del cliente un altro modo potrebbe essere quello che ho visto ieri se non sbaglio Cikita ha deciso di fare un co-marketing chiamiamolo diciamo co-marketing ma è un po' al confine tra co-marketing e co-branding con Spotify cioè acquistando un casco di banane Cikita sull'etichetta è presente il codice che puoi scannerizzare col cellulare e ottenere così una canzone da Spotify qualcosa del genere l'ho letto di sfuggire questo è un esempio per poter aumentare magari la soddisfazione del cliente per aumentare un'offerta per migliorare un'offerta dargli la possibilità di sussurri di altro che potrebbe piacergli incremento del valore percepito dell'offerta fermandoci sempre questo esempio cioè io non solo ovviamente vado ad acquistare quel prodotto che mi interessa in quel caso il casco Cikita ma in più ottengo un prodotto aggiuntivo quindi io effettivamente percepisco questa offerta come vantaggiosa accresco la mia notorietà questo pure è abbastanza ovvio come dicevo prima con la questione dell'audience io non soltanto colpisco la mia solita audience ma riesco anche a ottenere un nuovo bacino di audience che è quello del mio brand partner cambiare posizionamento percepito anche questo diciamo è un argomento a confine con quelli di cui abbiamo già parlato se il mio brand è posizionato nella mente del mio consumatore in un determinato modo io facilmente alleandomi con un brand con un diverso posizionamento posso anche usufruire di questa possibilità di cambiare il mio posizionamento nella mente del cliente in modo molto semplice perché spesso cambiare posizionamento non è facile che sia un posizionamento sul mercato che sia posizionamento nella mente del mio consumatore non è affatto semplice quindi il co-marketing potrebbe rappresentare in modo Martina abbiamo perso il tuo audio probabilmente stai toccando il jack delle cuffie o qualcosa di simile ok ora adesso ti sentiamo ok sì forse sicuramente avrò toccato qualcosa non lo so da quando è che non mi avete sentito più è giusto questi 15-20 secondi ok quindi stavo parlando del posizionamento percepito questo è stato sentito giusto? sì 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 ricomincio pure da dove è è stato proprio 15 secondi tempo di arrivare al computer e dietro ok perfetto allora come vi dicevo cambiare posizionamento non è facile spesso è ancora più difficile cambiare posizionamento nella mente del consumatore perché lì abbiamo a che fare con le associazioni mentali che non sono mai semplici da modificare quindi là si parla appunto di agire in maniera profonda modificare gli atteggiamenti modificare gli aspetti emotivi e di conseguenza i comportamenti ma anche di posizionamento all'interno dei mercati tutto ciò avviene in modo semplice come vi stavo dicendo grazie anche a un dimezzamento dei costi come vi dicevo all'inizio cioè tutti questi vantaggi a costi ridotti quindi questa effettivamente questa strategia potrebbe rappresentare una soluzione a diverse problematiche soprattutto in questo periodo altro vantaggio permette al brand più inato di focalizzarsi su una nicchia che cosa significa? significa che come il discorso della democratizzazione del lusso io brand di nicchia posso facilmente allargare il mio bacino di consumatori ideando una linea a basso costo e inserendomi nel mercato facilmente grazie all'associazione con un brand che già quel mercato di massa lo possiede e qui arriviamo allo spillover effect che in realtà è uno dei vantaggi sì ma anche degli svantaggi più grandi perché rappresenta un'arma a doppio taglio spillover letteralmente significa proprio traboccamento chiamiamolo così traboccare traboccamento e cosa significa? che qualsiasi percezione qualsiasi elemento che interessa il mio brand partner nel momento in cui io decido di instaurare questa alleanza e i consumatori vedranno i nostri brand affiancati inevitabilmente si verificherà un traboccamento di tutte quelle percezioni che il consumatore ha nei confronti del nostro partner poi un traboccamento di tutte queste percezioni nei confronti del nostro brand sia in senso positivo che poi lo scopo del co-marketing sia in senso negativo quindi questo significa che dobbiamo stare attenti come vi dicevo prima a scegliere bene e con giudizio il nostro partner e aumentare l'audience questo già ne abbiamo parlato largamente prima ovviamente questo è abbastanza ovvio se il brand partner è seguito da una determinata audience che io solitamente non colpisco in questo caso posso entrare più facilmente e raggiungere più facilmente questa audience andiamo ora da un punto di vista più pratico parliamo di co-marketing online quindi parliamo di come effettivamente noi possiamo realizzare un co-marketing non soltanto sui social cosa che in realtà spesso facciamo ma non sappiamo che si tratta di co-marketing e sui siti web anche questa questa affermazione che ho appena fatto vale ancora di più sui siti web e sui blog noi spesso facciamo co-marketing ma non ci rendiamo conto che effettivamente si tratta di co-marketing co-marketing è l'era del web 3.0 perché perché ovviamente come ho precisato non importa se siete un B2B un B2C ovviamente è fondamentale andare a capire che il web come sappiamo ha delle caratteristiche diverse rispetto alla realtà quindi se la maggior parte della letteratura se non tutta è concentrata sul co-marketing offline perché si tratta comunque di una letteratura che è abbastanza vecchia quindi stiamo parlando anni 90 inizia anni 2000 non esiste molta letteratura recente sul tema come adattare il co-marketing nel web 3.0 quindi un web che comunque è veloce un consumatore che sta su questo di produzione diciamo di ambiente virtuale in cui si aspetta che tutto gli sia dato subito immediatamente quando decide lui con i tempi che decide lui ovviamente tutto aumenta di velocità in questo contesto e noi dobbiamo imparare a fare i conti con questa velocità perché se da un lato è un vantaggio dall'altro lato la stessa questione dello spillover effect può essere uno svantaggio perché se noi facciamo qualcosa di corretto qualcosa di corretto verrà diffuso in maniera veloce ma anche se facciamo qualche cazzata alla fine rischiamo di ripercorrere tutti questi danni ed avere effettivamente una grande mazzata da questa situazione quindi dobbiamo cercare di sempre come vi dicevo prima scegliere il nostro brand in modo corretto cioè cerchiamo di scegliere il nostro brand partner con criterio perché se tutte le problematiche che vi dicevo prima sussistono nella strategia di co-marketing sul web vengono triplicate quadruplicate tutte più veloce tutte più immediato quindi insieme alle potenzialità infinite come vi dicevo abbiamo anche dei numerosi rischi quindi occhio a quello che facciamo sui social in generale occhio a quello che facciamo sui social con altri brand come fare un buon co-marketing sui social questi due punti in realtà sono due punti che sono alla base di qualsiasi azione che ne facciamo in qualsiasi ambito cioè stabilire gli obiettivi e creare una chiara strategia sono due pilastri fondamentali di qualsiasi cosa noi decidiamo di fare in ambito business in generale quindi anche in questo caso ovviamente diventa fondamentale stabilire gli obiettivi quindi capire come dicevo prima quali sono gli obiettivi impliciti ed espliciti di entrambi i brand ma soprattutto perché può capitare soprattutto in questo periodo che io decido di unirmi a un brand soprattutto per una questione economica quindi voglio risparmiare su sulle mie sponsorizzazioni sulle mie sponsorizzate online sui miei cartelloni pubblicitari sulla qualsiasi cosa cosa decido di fare decido di allenarmi con un altro brand ma ovviamente io non posso dire consumatori guardate che lo sto facendo solo perché voglio risparmiare dobbiamo cercare di rintracciare insieme al brand partner un qualcosa che sia coerente quindi che renda coerente quell'alleanza agli occhi dei consumatori quindi che sia per esempio migliorare le offerte che sia un aumentare la loro soddisfazione raggiungere uno scopo comune qualsiasi cosa quindi noi dobbiamo effettivamente trovare qualcosa che abbia senso agli occhi dei consumatori anche se la motivazione di base è solo economica elaborare una che era strategia ovviamente una volta stabiliti gli obiettivi dobbiamo capire come agire quindi perché in questo nel momento in cui noi decidiamo di allearci con un brand si svilupperà una strada parallela quindi la strategia nostra della nostra azienda che continuiamo a portare avanti per i fatti nostri mettiamola così e la strategia invece in co-marketing poi la strategia ovviamente avrà bisogno di una via a parte ma parallela quindi di un piano editoriale che includa tutte le azioni da fare con il partner sui social quindi i post da creare i video da creare eccetera eccetera passiamo ora a un punto di vista più pratico come vi dicevo come fare un buon co-marketing con i post quindi creiamo dei post in co-marketing ovviamente sempre in modo abbastanza naturale quindi deve essere una narrazione ora vedremo successivamente che cosa si intende da questo punto di vista un qualcosa di molto fluido naturale non deve essere qualcosa di imposto qualcosa che il consumatore percepisce come fondamentalmente senza senso e percepisca effettivamente che c'è qualcosa sotto nelle motivazioni che ci hanno spinta ad allearci con quel brand deve essere qualcosa di sensato di coerente agli occhi dei nostri consumatori con le sponsorizzate noi possiamo appunto ampliare la nostra audience e possiamo pomparle al massimo perché significa che se il nostro budget mensile era di 300 euro nelle sponsorizzate con il brand partner possiamo investire 600 o se investire nel doppio quindi aumentare le potenzialità che quel post venga visto da altri da altri consumatori da altri potenziali consumatori gruppi in target possiamo per esempio pensare di creare dei gruppi in target per quella particolare offerta che abbiamo fatto in co-marketing per quella particolare audience che effettivamente si sentiva abbastanza soddisfatta di quell'offerta e gestirla un po' come il classico gruppo Facebook quindi la classica community pensare di gestirla insieme al nostro brand ovviamente questo renderà più lunga la nostra relazione con il nostro brand quindi si transiterà da un co-marketing a un co-branding quindi sempre attenzione alle scelte che decidiamo di fare perché poi possono avere delle conseguenze a lungo termine quindi dobbiamo valutare se effettivamente noi vogliamo stringere una relazione duratura con questo brand oppure no stessa cosa invece dei gruppi in target su Facebook possiamo decidere di fare una lista broadcast su WhatsApp il canale è diverso il senso è lo stesso possiamo decidere di fare delle dirette quindi coinvolgere per esempio i CEO di tutte e due le attività partner che magari decidono di parlare della strategia adottata perché l'hanno fatto eccetera adesso vedremo un esempio del genere rubriche settimanali anche in questo caso io le consiglio sempre in generale perché è un modo per fidelizzare per intrattenere per educare il consumatore farlo insieme può essere utile anche per per farvi percepire agli occupati dei consumatori come uniti quindi per aumentare effettivamente la coerenza di questa alleanza ed educarli alla vostra offerta al vostro prodotto a tutto ciò diciamo che è incentrato sul quale è incentrato il vostro co-marketing quindi la vostra strategia di co-marketing in generale il consiglio che io vi do è quello di trattandosi di social di fare intrattenimento quindi il modo migliore è incuriosire che cosa significa cercare di fare diciamo delle narrazioni come vi dicevo prima che permettano non soltanto di intrattenere il vostro il vostro consumatore ma anche di farvi percepire come un un'alleanza effettivamente coerente come farlo tramite l'albertainment cioè che in realtà è molto 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 sfruttato soprattutto in America se avete intenzione un attimo di vedere approfondire queste tematiche ho scritto un articolo qualche anno fa sul mio blog potete andare tranquillamente a leggerlo advertainment si intende come quella pubblicità mascherata da intrattenimento un esempio che io ho fatto nell'ultimo intervento che ho fatto qui sui nascea digitale per quanto riguarda Whatsapp marketing un esempio principe di advertainment è quello fatto dall'azienda un'agenzia assicurativa africana che su Whatsapp ha deciso di fare di vendere diciamo di distribuire scusate non vendere di distribuire sul canale Whatsapp su un gruppo Whatsapp questa serie tv quindi quello è un classico esempio di advertainment cioè io ti sto dando un contenuto di intrattenimento e all'interno di questo contenuto di intrattenimento io inserisco naturalmente questi due brand quindi in quel caso ovviamente il brand in questione parlava di tutte le sue prodotti assicurativi eccetera inserendoli nella trama della serie tv noi possiamo fare lo stesso cioè possiamo decidere di fare anche non per forza un video ma anche immagini post che siano una narrazione qualcosa di divertente che intrattenga e nel quale i due brand si inseriscono in maniera naturale senza che appaia tutto ciò come una forzatura un esempio di successo in questo campo è quello fatto da Red Bull cosa ha fatto Red Bull nel 2012 mi sembra ha deciso di creare questo progetto Red Bull Stratos cosa ha fatto ha chiesto a questo paracatutista agostiaco che in realtà aveva un sacco di record mondiali per quanto riguarda il paracatutismo quindi Felix Baum Gartner penso che si dica così Baum Gartner scusate non sono bravissima in tedesco credo che sia tedesco apostriaco sì apostriaco cosa hanno deciso di fare hanno deciso di chiedere appunto a questo paracatutista di lanciarsi con un pallone a elio da 24 miglia d'altezza quindi l'hanno inserito in una capsula l'hanno inviato praticamente all'india dell'atmosfera terrestre e gli hanno chiesto di lanciarsi tutto ciò è stato filmato è stato trasmesso in diretta sui social come con la gopro quindi qui analizziamo nel dettaglio questa campagna che cosa è successo innanzitutto vediamo una una realizzazione quindi una concretizzazione del claim classico di redbull cioè redbull ti mette le ali quindi l'hanno appunto lanciato da queste 24 miglia d'altezza concretizzando effettivamente il loro claim dall'altro lato c'è gopro che ha avuto la possibilità di mostrare tutte le sue funzionalità tutte le sue caratteristiche anche in condizioni estreme come quello di un lancio da 24 miglia quindi mostrando effettivamente che il loro prodotto è un prodotto di alta qualità quindi questo è un esempio di co-marketing fatto bene perché ha un senso perché non intrattiene innanzitutto intrattiene quindi è stato un evento ha rappresentato un record mondiale ha coinvolto comunque un personaggio che di per sé è molto famoso nel mondo del paratatudismo quindi essendo Red Bull comunque una bevanda molto sfruttata nell'ambito dello sport sappiamo che effettivamente Red Bull in questo caso è riuscito a fare un buon lavoro coinvolgendo anche GoPro parliamo invece di co-marketing sui siti web il tempo stringe quindi devo stringere anche io sui siti web in particolare parliamo di e-commerce e blog che cosa significa che dobbiamo possiamo sfruttare tranquillamente questa strategia anche sul nostro e-commerce quindi se abbiamo un e-commerce cosa possiamo fare possiamo decidere di adottare due strategie una che si appicina un po' più al co-branding l'altra invece che è pienamente di co-marketing cioè possiamo e che si interseca con la strategia del cross-selling che cosa significa che noi possiamo per esempio proporre durante o dopo l'acquisto di un nostro prodotto sul nostro e-commerce l'acquisto di un prodotto complementare di un altro brand quindi inviare per esempio il consumatore sul sito del partner del brand partner e invitarlo all'acquisto di quel prodotto complementare oppure proporre l'acquisto del brand di quel prodotto del brand partner direttamente sul nostro sito sempre prima o dopo l'acquisto altra strategia invece che si avvicina un po' più alla situazione del marketplace un po' alla Amazon è quella di invitare a vendere il nostro brand partner i loro prodotti scusate sul nostro sito quindi già qua è una strategia che si allontana un po' dal co-marketing e per me in realtà interseca i due brand a un livello più intenso quindi se vogliamo fermarci a un livello più superficiale questa strategia tra il cross-selling e il co-marketing potrebbe essere più opportuna cioè proporre l'acquisto del nostro prodotto nel momento in cui il prodotto è acquistato o appena prima che avvenga il pagamento possiamo proporre il prodotto complementare appartenente all'azienda partner nel mondo del blog il blogging viene spesso fatto co-marketing ma noi non lo sappiamo per esempio il guest posting è un esempio di co-marketing è il co-marketing per eccellenza perché io invito altri bloggers sul mio blog a scrivere degli articoli traendo una serie di vantaggi cioè l'aumento dell'audience trattare un bacino più ampio di argomenti ma soprattutto risparmio del tempo io cioè ho dei contenuti sul mio sito senza investirci del tempo un'altra strategia sul blog da utilizzare all'interno dei blog è il link building quindi sappiamo quanto sia importante per quanto riguarda la SEO quindi possiamo per esempio chiedere ad altri siti di altri bloggeri altri siti che parlano del nostro stesso argomento che trattano di argomenti complementari di parlare di citare un qualche nostro articolo e un link che rimandi al nostro sito questo potrebbe essere anche una strategia di co-marketing interessante e a costo zero ovviamente co-marketing offline quindi tralasciando diciamo mettendo da parte tutto ciò di cui abbiamo parlato fino ad ora per quanto riguarda il marketing online parliamo adesso del marketing offline quindi il co-marketing offline tutta la letteratura come vi dicevo si basa sul co-marketing offline ma quello su cui io voglio puntare diciamo l'attenzione oggi è sulla possibilità di utilizzare insieme due strategie low cost che sono in realtà le strategie low cost per eccellenza che sono il co-marketing e il guerriglia marketing per chi di voi non ha mai sentito parlare di guerriglia marketing si tratta di una strategia per l'appunto low cost che ha lo scopo di sfruttare l'ambiente circostante per non soltanto attirare l'attenzione ma anche stupire il consumatore ora andiamo a vedere per esempio questo è un esempio appunto di guerriglia marketing molto generico molto semplice però ad alto impatto cioè stiamo parlando di veramente una strategia low cost cioè un servizio adesivo su una fermata dell'autobus però guardate l'alto impatto che ha e come effettivamente riesce a pubblicizzare quel prodotto cioè come attiri l'attenzione e stupisca chi passa da lì quindi stiamo parlando di una strategia low cost veramente che da cui possiamo ottenere dei risultati veramente eccezionali cosa succede se noi invece lo facciamo insieme ci facciamo il guerriglia co-marketing ovviamente l'impatto visivo potrebbe anche essere molto più interessante rispetto a farlo da soli un esempio chiarissimo che voglio mostrarvi è questo allora vediamo prima questo esempio e poi parliamo di quali sono le regole da seguire per un buon co-marketing un buon guerriglia co-marketing scusate allora cosa hanno fatto Crunchy Host che è una famosa un famoso brand di cereali in America è Honda Civic hanno deciso di creare questa installazione che apparentemente non ha senso però in realtà è geniale perché perché richiama il la famosa abitudine che c'era negli anni 80 negli anni 90 di mettere le sorprese all'interno delle scatole di cereali quindi cosa hanno pensato Honda Civic e Crunchy Host che tutti quei ragazzini che negli anni 80 anni 90 trovavano le sorprese nei cereali adesso erano persone adulte quindi sono persone adulte che acquistano delle auto quindi cosa c'è di meglio se non richiamare alla memoria un ricordo di infanzia un ricordo tenero di infanzia quindi qui non troviamo soltanto una spettacolarizzazione dell'installazione che comunque è abbastanza visibile attira l'attenzione ma troviamo anche un richiamo alle emozioni infantili che è fondamentale quindi un giocare sulla nostalgia che può effettivamente essere fondamentale per spingere all'acquisto quindi qui non soltanto troviamo un gueriglia con marketing ma troviamo un vero e proprio marketing emotivo quindi io lo trovo particolarmente geniale quali sono le regole da seguire quindi per fare un buon gueriglia con marketing innanzitutto come vi dicevo l'installazione deve essere una narrazione cosa che effettivamente è questa lo possiamo tranquillamente vedere una semplice scatola enorme un'auto che esce da questa scatola di cereali enorme è una narrazione fondamentalmente perché poi troviamo il claim driving is fun again quindi diciamo il claim più l'installazione in sé rappresentano un racconto stesso spazio percettivo è entrambi i brand quindi è fondamentale che occupino la stessa importanza quindi non in termini di grandezza proprio in termini di spazi percettivi cioè devono condividere entrambi lo stesso spazio quindi non deve essere più rilevante la narrazione di un brand piuttosto che dell'altro l'unica non è deve apparire naturale e coerente come vi dicevo prima questo vale che sia online o offline e poi soprattutto divertire e studire che sono le parole chiave ora come ultima diciamo come slide di chiusura vi ho messo questa bibliografia in realtà la bibliografia è molto più ampia ho deciso di selezionare questi quattro articoli perché secondo me sono i più esemplificativi cioè quelli che effettivamente possono aiutarvi a introdurvi in modo semplice nel mondo del co-branding e del co-marketing quindi farvi capire effettivamente quali sono le differenze e i vantaggi di questa strategia quindi io ho concluso non so se ci sono delle domande ciao Martina ciao ecco mi sono venuto nel tuo salvataggio nel frattempo è arrivata una domanda da Roberta che chiede nel caso in cui il brand con il quale stringo un'alleanza venga coinvolto in uno scandalo come è possibile come è consigliabile reagire? dobbiamo prendere le distanze? non è semplice è una domanda interessante non è semplice nel senso dipende anche dalla tipologia di scandalo che lo ha coinvolto perché se si tratta di uno scandalo abbastanza grave il primo esempio che mi viene in mente è quello di Nestlé quando è stato coinvolto in quello scandalo enorme o anche per esempio Parmalat in quel caso ovviamente si tratta di accuse abbastanza pesanti quindi è fondamentale prendere le distanze se si tratta di perché può anche capitare che si tratti di accuse infondate in quel caso sarà noi un attimo cercare di valutare la situazione e gestire il meglio quindi ovviamente bisogna agire di comunicazione comunicazione quindi sui social comunicazione tramite altri canali che sono più frequentati diciamo dalla nostra audience quindi cercare diciamo di agire con criterio e non eliminare i commenti come spesso si fa quindi non reagire male cercare di spiegare comunque andare incontro anche alle richieste dei consumatori che potrebbero effettivamente chiederci cosa è successo se anche noi siamo coinvolti eccetera eccetera quindi cercare un attimo di reagire con criterio in base alla situazione Michele ti chiede quali potrebbero essere le ricadute nella percezione del cliente alla fine di una lunga alleanza di marketing per esempio quella di Rocchetta e un livello ok quindi allora ti rispondo in due parti nel senso in generale il rischio fondamentale è che i due brand rimangano nella mente del consumatore associati per un grande periodo o che va oltre l'alleanza in sé da un punto di vista pratico cosa peggiore che può succedere è se uno dei due brand è più famoso dell'altro c'è il rischio che uno inglobi l'altro quindi si tratta in quel caso di cannibalizzazione del brand cioè il brand più piccolo viene praticamente oscurato dal brand quello più famoso invece quindi di ottenere dei vantaggi c'è il rischio che praticamente il brand più piccolo venga fagocitato e questa è una risposta generica per quanto riguarda invece un livello in Rocchetta io credo che loro abbiano trovato un modo così equilibrato di realizzare questa strategia che effettivamente non ha provocato danni da questo punto di vista perché comunque i due marchi sono rimasti separati nella mente del consumatore pur rimanendo uniti da un punto di vista valoriale nel senso che entrambe sono acque della salute però tutte e due hanno delle caratteristiche differenti quindi questo è stato possibile grazie anche all'utilizzo di questi due testimonial che fondamentalmente incarnavano le caratteristiche dei due prodotti quello è stato lo scopo la scelta diciamo di questi due testimonial invito il pubblico a fare delle domande se vuole in questo momento nella sezione Q&A così da poter teleporre e nel frattempo citerei sottolineare questo punto che tu magari hai già trattato ma che qui hai trattato nuovamente che è proprio quello della condivisione dei valori credo che sia molto importante nel momento in cui si va a sviluppare una strategia di questo genere scegliere un per ricollegarmi anche al fatto dello scandalo che veniva menzionato prima è importante scegliere un brand con il quale collaborare che condivide i nostri valori e del quale siamo sicuri e che sappiamo chi è cosa fa come si comporta e quali sono i loro valori corretto? sì assolutamente assolutamente cioè in realtà sarebbe necessario creare proprio una sistematizzazione di questa procedura che fondamentalmente non esiste quindi bisognerebbe proprio andare a creare una serie di step per cercare di ridurre al minimo i rischi di questa associazione perché fondamentalmente ci sono tanti vantaggi ma ci sono anche tanti rischi tanti punti interrogativi sì per cui è molto 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 importante strutturarla al meglio e cercare di trovare il partner che sia più in linea con noi possibile è un po' come nella vita reale fondamentalmente perché altrimenti non riusciamo ad andare d'accordo per un lungo periodo di tempo questa è la logica di base per rendere molto semplice il concetto e l'importanza di questa alleanza cioè non prenderla alla leggera come molti spesso fanno quindi convinti che effettivamente si tratti di un qualcosa di blando quando in realtà non lo è sì diciamo che non basta affidarsi alla popolarità di un brand piuttosto che quella di un altro ma valutare al meglio questa popolarità cosa potrebbe portare sia come lati positivi che lati negativi Marta nel frattempo chiede solitamente che tipo di accordi commerciali vengono fatti tra i due brand che danno luogo poi alle partnership di co-marketing ok in che senso accordi commerciali cioè nel senso di decisioni su come su quali piattaforme dovranno avvenire le pubblicizzazioni penso che intendeva questa cosa non lo so è un po' vaga come domanda comunque in generale verranno fatti degli accordi sulla base anche della strategia che i due brand hanno deciso di adottare quindi sulla base degli obiettivi e della strategia tutto è definito insieme sulla base degli obiettivi non c'è un qualcosa definito a priori la sua domanda poi l'ha completata con una successiva domanda ci sono dei contratti tipici in termini di divisione degli utili ok sì 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 ci sono dei contratti ovviamente perché ovviamente tutto deve essere ben definito perché altrimenti sì c'è il rischio che si incorre in qualche in qualche litigio diciamo tra virgolette tra i brand e se tutto non è ben regolamentato si rischia effettivamente grosso quindi sì ci sono dei contratti che vengono fatti non c'è niente di predefinito quindi quello che ti dicevo prima tutto viene adattato al caso specifico per cui non esistono diciamo dei contratti sì non esistono predefiniti dei contratti tipici sì non arrivano ulteriori domande intanto Marta ti ringrazia per la tua risposta tu hai qualche punto sul quale secondo te è importante che il pubblico mediti per poi poter pensare a un'eventuale strategia di questo genere allora in realtà ci sono diversi punti fondamentalmente innanzitutto come dicevo l'aspetto economico cioè quello che su cui insisto e in realtà è il motivo per cui ho scelto questo argomento è proprio l'utilità di questa strategia in un momento come questo quindi un momento di ripresa in cui molte attività hanno effettivamente difficoltà a investire da un punto di vista pubblicitario però contemporaneamente sanno quanto sia importante effettivamente investire in pubblicità ma si trovano limitati da un punto di vista economico come fare potrebbe essere interessante per esempio anche per due ristoranti per due gelaterie o ristorante e gelaterie per esempio quindi vieni cena da noi e poi puoi andare a prendere il gelato in questo posto quindi un esempio stupido però intanto condividendo i costi di questa sponsorizzazione riusciamo effettivamente a ottenere dei risultati quindi a raggiungere anche un audience maggiore ma soprattutto anche aumentare la soddisfazione del cliente possiamo anche per esempio decidere di oscillare tra un co-marketing e un co-branding coinvolgendo per esempio dei buoni sconto dei coupon quindi qualsiasi cosa comunque possiamo tranquillamente essere molto plastici da questo punto di vista quindi possiamo essere abbastanza creativi e cercare di pensare a una soluzione però a volte spesso allearsi con un brand può essere effettivamente meglio che fare le cose da soli soprattutto in un periodo come questo si spesso diciamo si va ad aggiungere si va a dare un servizio aggiuntivo in più al cliente come facevi ad esempio che tu hai il coupon se ce ne qui hai il coupon per il gelato che secondo me è non indifferente e che va a dare un servizio in più rispetto a quello che magari riescono a dare ai tuoi competitor che non attuano strategie di questo genere per cui un altro punto di forza oltre la visibilità condivisa e tutto quello che è è anche il servizio in più che riesci a dare al tuo contatto alla persona che sarebbe il tuo cliente sì sì assolutamente noi ogni tanto chiediamo delle quote con il quale chiediamo allo speaker di lasciarci e chiudere in bellezza il proprio il proprio speech ne hai qualcuna che secondo te o se o se vuoi darci una tua definizione personale di co-marketing ok per me il co-marketing è sinergia quindi l'importante è essere sulla stessa linea d'onda questo è il fulcro fondamentale di questa strategia perché se non manca la sinergia non si arriva diciamo da nessuna parte questo potrebbe essere un modo per chiudere per dare anche una definizione molto semplice sentituitiva